Sono Francesca, ho 23 anni, sono fidanzata con Manuela da 2 anni e 4 mesi, ho scritto io a Temptation Island perché Manuela ogni 2x3 mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna. Quando stiamo insieme mi ha lasciato circa 5 volte, io sono sempre di chi aspetto, lui forse di questo se ne approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuela aveste chiaro ciò che vuole, se stare con me o no. Temptation Island, a lunedì in prima serata Canale 5.